Benvenuti in questo nuovo video, allora come faccio a sapere che un brand che mi scrive una promessa sul packaging del prodotto nella descrizione poi la mantenga? Allora dovete sapere che esiste un articolo ben preciso per quanto riguarda i cosmetici, in realtà quando ci riferiamo alla produzione di cosmetici è un articolo della Commissione Europea ben preciso che è il 1223 e in questi regolamenti, in queste norme esiste un articolo 11 che si riferisce al PIF, che cos'è il PIF? Il PIF non è altro che una sorta di documentazione del prodotto in cui ovviamente una persona responsabile di quell'azienda va a scrivere anche quali sono le prove scientifiche di efficacia di un determinato prodotto, faccio un esempio. Shampoo alla cheratina, formula lisciante che ripara i capelli per capelli brillanti e luminosi Shampoo ristrutturante con formula arricchita di cheratina Questo shampoo ovviamente per essere messo sul mercato deve avere un PIF, ovvero deve avere appunto una documentazione che ovviamente rimane segreta perché giustamente altrimenti se un'azienda condivide il PIF rischia che poi qualcun altro copi le formule C'è proprio un identikit del prodotto a 360 gradi che lascia un information file Quindi in questo PIF troveremo non solamente tutte le informazioni e i test per quanto riguardano la sicurezza del prodotto ma anche troveremo tutte le informazioni e i test scientifici che approvano che quel prodotto funziona e fa quel che promette Quindi la Commissione Europea ci tutela anche su questo grazie a questo articolo 11, 12, 23 Quindi la Commissione Europea ci tutela anche su questo avendo fatto apposta una norma di legge proprio per questo motivo e l'articolo 11 E quindi possiamo andare sereni che tutti i prodotti che rispettano tutti i requisiti e quindi sono venduti sul mercato devono promettere quello che c'è scritto, quello per cui noi andiamo a comprare il nostro prodotto Questo è tutto, mando un bacio e spero di essere stata utile Ciao